Loki, episodio 5, un episodio ricco di azione. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nel Merlokydi, nel giorno di Loki, il giorno della Marvel. Parliamo dell'episodio 5 di Loki, della serie TV Loki ovviamente, che svolge quasi al termine. È il penultimo episodio, hanno sfornato un po' tutte le cartucce, quantomeno quelle sull'azione in questo episodio. Ho anche rivisto l'episodio 4 e avevo notato già una cosa che non ho detto nel video di settimana scorsa, ma adesso ne parliamo insieme. Devo dire che sono soddisfatto, però non so cosa ci aspetterà nell'ultimo episodio. L'ennesima delusione dalle nostre aspettative che ci siamo fatti già con WandaVision? Chi lo sa. Prima di cominciare, se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno un sacco di varianti e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso dell'episodio e di questo video. Vi ricordo sempre anche che settimana prossima il video sull'ultima puntata di Loki non uscirà di mercoledì, perché sono in vacanza, ma uscirà di giovedì mattina al più tardi. Quindi datemi fiducia, attivate la campanella delle notifiche, che così ve lo guarderete. Grazie, grazie, grazie. In questo video farò spoiler fin dall'inizio, perché comunque principalmente c'è azione in questo episodio, di conseguenza non posso non raccontare la storia, cioè potrei se fossi più bravo, ma non lo sono. Quindi mi raccomando, faccio spoiler. Allora, l'episodio inizia dove ovviamente era finito, nel cliffhanger della scena post-credit, dall'episodio scorso, con questo Loki, il nostro Loki, che viene scaraventato in questo posto, dove altri Loki lo aspettano, comunque erano già lì prima di lui. Abbiamo questo Loki con un grosso martello, con una pelliccia, che poi si rivelerà non essere tanto simpatico. Abbiamo l'Old Loki con il costume classico dei fumetti. Abbiamo Kid Loki e abbiamo Alligator Loki, confermato è una variante Loki, non è un animale la compagnia di Kid Loki, se c'era qualche dubbio. Che spiegano, diciamo, fanno la funzione di spiegone di dove si trova Loki, dove ci troviamo in questo momento. L'opzione che avevo pensato, una delle due opzioni che avevo supposto, la prima era quella più, ovviamente più logica, cioè l'arnese che serve a resettare le varianti, in realtà non disintegra le persone, ma le trasferisce in un altro luogo. Le trasferisce in un altro luogo dove verranno mangiate vive da una nube semisenziente. Sì, molto più umano così, grazie. Capisco che ci deve essere un po' di mistero in questa serie, tant'è che il titolo stesso, se non sbaglio, è Viaggio nel mistero, però il fatto che hanno mostrato dopo che questo arnese non disintegra, ma trasferisce le persone in un altro luogo, sembra molto conveniente alla trama, sembra scrittura pigra come si suol dire, no? Però ce lo facciamo andare bene, perché se lo avessero detto dall'inizio sarebbe stato logico per Loki e per noi spettatori dire dove andranno, andiamo a vedere cosa c'è lì, prendiamo delle cose da lì. Sarebbe stato... e ci sta che nessuno lo sappia, altrimenti Sylvie stessa avrebbe cercato di nascondersi lì fin da subito, quindi lo posso capire. Però, vabbè, è un po' conveniente alla trama, dato che i nostri protagonisti, i nostri beniamini, sono stati falciati nella puntata scorsa. Parlo di Loki e di Mobius, ovviamente. Scopriamo che questo posto è una sorta di discarica dove tutti questi arnesi trasferiscono le varianti, perché, come spiega Ravonna, le varianti non si possono resettare del tutto e quindi si mettono in un posto dove comunque non vanno a causare eventi Nexus. Come spiegare il fatto che lì non ci sia accumulato un sacco di roba in più di quella che vediamo realmente? Perché c'è una nube semisenziente che mangia. Fa un po' da spazzino, no? Che mangia tutto quello che gli viene a portata di tiro. Tutte queste varianti di Loki che abbiamo visto sono appunto varianti che sono state falciate dalla TVA e che stanno cercando semplicemente di sopravvivere in una sorta di bunker anti-atomico a questa nube fondamentalmente. E quando arriva un nuovo Loki lo accolgono e gli spiegano un po' la situazione. Come dicevo, il Loki, quello di colore, con il martellone e il pellicciotto, non è tanto simpatico, perché nonostante fa parte del gruppo pare che abbia tradito il suo gruppo con un'altra fazione di Loki capitanata da questo Loki President, diciamo, da questo Loki che ricorda molto la saga fumettistica Votaloki. Devo ammettere che sono stato un pochino deluso perché speravo che la scena con Tom Middleston in doppio petto, col gilet, con lo stemmino Votaloki, con tutto il suo esercito, speravo fosse il nostro Loki. E invece è una variante, tra l'altro una variante anche abbastanza antipatica, abbastanza macchiettistica, che dura pochissimo, tra l'altro. Quindi mi è dispiaciuto due volte. Uno, dal punto di vista estetico, mi è dispiaciuto che il nostro Loki non indossasse un completo così da... tutto un giacca e cravatta da cattivo, no? Dei no altri, da cattivo dell'era moderna, con tanto di stemma politico. Quello è un po' mi è dispiaciuto. Anche perché credo che avrei visto un sacco di cosplayer interessanti nelle prossime fiere, nel Lucca Comics, se questo Loki fosse stato interpretato dal nostro Loki. Ci saranno sicuramente dei cosplayer che lo faranno, ma credo che perda un po' di... diciamo, di carisma se è stato interpretato da una variante di poco conto. Comunque, scena fantastica, scena anche top quando l'alligatore gli morde la mano e quindi io mi aspetto se ci sarà qualche cosplayer nelle fiere, anche qualche cosplayer con la mano mozzata. Sarebbe proprio un tocco di classe o con un alligatore attaccato alla mano. Sarebbe fantastico. Finto, ovviamente, ragazzi. L'altra delusione è che speravo che questo Loki for President ha anche la luce della frase che ho messo in copertina e della frase che abbiamo visto nel trailer e non vi ho spoilerato nulla nella copertina quando dice andiamo, cosa vi aspettavate? Uniti i puntini mi aspettavo che quel Loki fosse il Loki dietro a tutto, il Loki cattivo che tirava le file dato che tra le varie diciamo, speculazioni su chi ci sia dietro la TVA molti pensano ci sia un Loki del futuro che vuole creare un loop temporale. Non so perché molte di queste persone pensano che sia più plausibile il fatto che ci sia un altro Loki e non Kang. Non dico che deve esserci per forza Kang ma un qualcosa tipo Kang cioè un nemico esterno o comunque sì un nemico che nessuno si aspetta che c'è sempre stato dall'inizio ma perché proprio Loki? Mi sembra un po' strano. So che avrebbe avuto senso perché Loki è fatto così bla 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 ma dal momento che in questa puntata abbiamo visto una sfilza di Loki persino combattere tra loro in questo posto in questo luogo alla fine dei tempi sarebbe davvero ripetitivo se vedessimo anche nella prossima e ultima puntata che il nemico finale è un ennesimo Loki quindi su questa ipotesi io francamente non ci punterei più di tanto. è vero abbiamo solo 45 minuti per vedere chi c'è dietro e lanciare un nemico così grosso come Kang non ha altrettanto senso avrebbe avuto senso appunto se ce lo presentassero in una scena post credit ma per come è stata impostata questa puntata è ovvio che la prossima sarà un confronto dall'inizio alla fine con questo nemico con tanto di spiegone reale di quello che c'è stato nella storia della TVA non la favoletta che ci hanno raccontato nella puntata 2 un'altra cosa che avevo notato nell'episodio scorso è che quando Ravonna si trova in balia di Sylvie quindi è con l'arma puntata alla gola con l'arma per essere risettata puntata alla gola quando Ravonna dice a Sylvie ti prego fallo non la sta provocando è seriamente intenzionata a essere risettata a essere falciata non ne può più nemmeno lei nello sguardo c'è disperazione e anche quando comunque in questo episodio ha in un certo senso tradito Sylvie vediamo che lei stessa vuole capire per i suoi scopi egoistici ovviamente non per fare la buona di turno ma lei stessa vuole capire cosa c'è realmente dietro alla TVA lei è come si dice spinta da una fede cieca di quelle che anche di fronte all'evidenza cioè di fronte all'evidenza che i timekeepers erano degli animatronics vuole continuare a mantenere lo status quo faccio un esempio religioso mi scusate credenti però è come se non lo so il papa scoprisse inderogabilmente che non c'è nessun dio e continui a mandare avanti il Vaticano perché parole di Ravonna l'ordine deve essere comunque mantenuto finché non si sa come comportarsi di conseguenza quindi Ravonna è in questa posizione in questo momento una posizione di diciamo rilievo di comando che vuole mantenere lo status quo per evitare che si dilaghi il caos alla TVA e fuori dalla TVA e nella linea temporale lei nel dubbio non sapendo nemmeno lei cosa fare nel dubbio vuole mantenere le cose esattamente come sono ma lei stessa vuole scoprire anche solo per curiosità personale chi è che comanda dietro a tutto un altro personaggio importante che non ho citato nello scorso episodio è B15 che ha aiutato Sylvie nello scorso episodio ed è presa presa in ostaggio è tenuta prigioniera da Ravonna in questo episodio che gli racconta gli racconta quello che B15 ha visto quindi comunque B15 dopo quello che ha visto dopo quello che Sylvie gli ha mostrato non è più schierata dalla TVA anzi è arrabbiata con Ravonna dice sì lo so che anche tu vuoi scoprire chi c'è dietro ma lei ne ha bisogno tu sei comunque nel torto quindi vediamo questi due aspetti di fronte alla scoperta di una amara verità come previsto il potere solo tipico di Sylvie dell'incanto delle altre menti si è rivelato molto utile per incantare appunto questa nube Aliot che divora tutto lei dice ok questo qua è il cane da guardia di fronte al boss finale se lo incanto riesco a superarlo quindi si si rivela utile il potere di Sylvie ma si rivela utile anche il potere unico dell'old Loki a dimostrazione del fatto che ogni Loki è bravo in quello che fa il potere dell'old Loki ce l'ha anche il nostro Loki ma non a questo livello l'old Loki riesce a manifestare un'intera Asgard in ricordo anche di quello che è stato e fa credere ad Aliot che questa Asgard sia una diramazione che è stata portata lì dalla TVA in modo da distrarlo in modo che Sylvie lo incanti questo sacrificio dell'old Loki è stata una delle scene più fighe dell'intero episodio e ci ha portato appunto anche in un modo molto semplicistico devo dire al boss finale cioè il fatto che abbiano incantato Aliot ha come diramato la nebbia e ci ha mostrato una casa e pare proprio che si vada in quella casa e lì ci sarà tutto l'atto finale tutto il sesto episodio probabilmente mi è sembrata una cosa un po' stupida io pensavo che una volta incantato Aliot sarebbero riusciti o magari si fosse interrotto lì l'episodio e nel prossimo episodio avrebbero navigato un po' nella mente di Aliot per scoprire davvero come è nata la TVA come è nata la sacralina temporale eccetera e alla fine di questo percorso avremmo avuto uno scontro finale con il Big Bad del prossimo episodio invece pare che vadano in questa casetta qua però vediamo vediamo chi ci sarà nella nella casetta in Canada che abbiamo visto a fine episodio scrivetemi qua sotto nei commenti il toto scommesse su chi c'è secondo voi voglio i nomi più stupidi più strani che vi possano vedere in mente inizio io con Bear della Grande Casa Blu io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto e ci vediamo settimana prossima di giovedì poi se riesco lo faccio anche di mercoledì però al massimo di giovedì per l'ultimo episodio di Loki e stasera io me ne vado bello bello al cinema a vedere Black Widow ma ne parlerò venerdì tra un paio di giorni quindi attivate la campanella delle notifiche per Black Widow venerdì e Loki mercoledì prossimo arrivederci